un po' come cercare un ago in un pagliaglio perché fra tante erbe io sono alla ricerca di questi piccoli pennacchi bianchi ma ne sono rimasti pochissimi non più di una dozzina sono eriofori gli eriofori sono delle piante speciali particolarissime piante tipiche delle torbiere appartengono a un'epoca lontana un'epoca glaciale quando i ghiacci si sono spinti fino al cuore del mediterraneo portando con sé tutto un corteggio di piante di animali tipici delle zone settentrionali fra questi gli eriofori che crescono nelle zone torbose e le torbiere sono delle praterie acquitrinose dove si deposita il materiale organico vegetale forma una sorta di tappeto più o meno spesso primo processo della formazione del carbone e questo terreno è adatto allo sviluppo degli eriofori ma quando il clima è andato cambiando queste piantine sono scomparse ovviamente non hanno più trovato le condizioni adatte tranne in alcune isole rilitte dove per la presenza ancora di un substrato di torba e per le condizioni climatiche anche abbastanza continentali hanno trovato di che sopravvivere affidando il futuro di questa popolazione a queste infruttescenze che il vento andrà a disperdere quest'anno sono una dozzina speriamo che nel prossimo anno ci siano nuove nascite e che questa stazione relitta di erioforo nel cuore dell'appennino continui ancora a vegetare e a rappresentare un elemento così importante nella biodiversità che non è fatta solo di grandi alberi di grandi querce di grandi faggi di grandi animali ma anche di questi piccoli protagonisti